Rapinatori in azione, stamattina la gioielleria Stroili nel centro commerciale Le Colonne di Brindisi. Di primo mattino sono entrati in due a bordo di uno scooter da una porta secondaria della galleria del centro commerciale con il chiaro intento di andare a rapinare la gioielleria, le cui serande però erano ancora abbassate in quanto l'apertura avviene alle ore 9. A quel punto non hanno potuto far altro che darsi alla fuga. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli uomini della vigilanza. Purtroppo non è la prima volta che la gioielleria delle Colonne viene presa di mira dalla criminalità organizzata. Era già accaduto la scorsa estate ma la rapina fallì anche in quella occasione. È evidente che proprio la gioielleria Stroili rappresenta un obiettivo sensibile che la malavita ha preso di mira e che probabilmente rimarrà a rischio fino a quando non raggiungeranno l'obiettivo. Un motivo in più per potenziare i servizi di guardiania e quindi per garantire condizioni di sicurezza anche ai tanti dipendenti che di primo mattino affollano la galleria del centro commerciale per effettuare le operazioni di scarico della merce e per allestire le rispettive attività. Trovarsi di fronte a banditi armati di pietre di porco e forse anche armati costituisce un problema gravissimo. Fra l'altro proprio le rapine e le tentate rapine scoraggiano tanta gente a recarsi in queste strutture commerciali. Un fatto grave che merita approfondimenti anche in considerazione del fatto che ieri un tentativo di furto con scasso si era verificato sempre ai danni di una gioielleria nel cuore del centro storico di Brindisi.